Allora se siete collegati io darei prima di dare la parola a Franco Ferrari della redazione e dare la parola a Riccardo Petrella che è collegato con noi online e che con noi ha costruito una serie di iniziative a partire dal G20 in Italia che ha visto diverse città investite dell'iniziativa istituzionale e quindi noi abbiamo risposto a queste iniziative istituzionali costruendo una rete move up che ha provato a contrastare la narrazione ufficiale mettendo in campo sui vari aspetti alcune proposte alternative. Una di queste proposte alternative è l'altra agenda che con Riccardo Petrella, con Transform Europe stiamo promuovendo a livello europeo e a livello globale visto che sono coinvolti anche in questo progetto personalità intellettuali e movimenti di tutto il mondo a partire dal Sud America, da Asia e Africa. E quindi è con piacere che do a lui la parola per raccontare un po' quello che cos'è l'esperienza dell'altra Europa. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Non pensavo di intervenire così presto, allora in ogni modo grazie per darmi questa occasione di raccontare un pochino il progetto dell'altra agenda. In fondo oggi è il giorno della terra e l'altra agenda è nata da due ispirazioni, se posso dire così, da due motivazioni. Prima l'indignazione, nel senso che tutti coloro che sono stati implicati nell'altra agenda sono animati dallo spirito di indignazione rispetto alla situazione attuale. Una situazione attuale che non è solo quella data dalla guerra in Ucraina, ma che è un'indignazione contro una situazione che si è creata e consolidata da una trentina di anni da questa parte a livello mondiale e che si è consolidata sempre di più a livello mondiale. Ecco perché il concetto di altra agenda, sempre in legame con il concetto della terra e degli abitanti della terra, è un concetto che mira le strutture a capire le correnti di fondo, non le correnti di superficie e non farsi acchiappare fra quelle ondate che sono anche molte stravolgenti al livello di superficie e poi dimenticare quelle ondate invece che sono quelle correnti che sono invece terribili, che sono soprattutto quelle di fondo. E in realtà cosa sono queste tendenze di fondo che abbiamo tentato prima di capire? Anche perché l'indignazione non si ferma lì, l'indignazione si accompagna da un senso anche di capacità d'azione limitata, nel senso che abbiamo buon gioco ad indignarsi e poi constatiamo che anche se ci sono migliaia e migliaia e migliaia delle situazioni come la nostra, l'indignazione non è sufficiente e non perviene a scalfire o a far dirottare le correnti di fondo. Ed è questo che è il risultato che abbiamo ottenuto tra noi stessi, e quindi bisogna agire sull'agenda strutturale. Questa agenda strutturale deve farci un pochino uscire da questo senso anche di incompiutezza, senso di debolezza, senso di limitazione. Un esempio notevole di questi ultimi anni è il fatto che non si sia riusciti a scalfire di una piccola superficie questa roccia dei dominanti che vogliono ad ogni modo conservare il diritto di proprietà intellettuale vivente sull'intelligenza artificiale. Se ci pensate, da due anni, più di 150 Nobel Prize del mondo, più di 12.000 associazioni nel mondo, più di 500 appelli del mondo di varie ordini, scienziati, politici, di 100 paesi, eccetera. Ebbene, malgrado tutte queste cose che hanno implicato milioni e milioni di gente, che hanno fatto scrivere chilometri e chilometri di pagine web, eccetera, beh, non sono riuscito a far cambiare niente sui brevetti. nemmeno anche una parte piccola di una sospensione provvisoria di solo una categoria di brevetti, solo riguardanti poi certi tipi di vaccini, a condizione che questi tipi di vaccini non riguardano che i vaccini e non tutti gli altri. e quindi è stato evidente che questa indignazione deve portare sulle strutture, sulle correnti di fondo, fra i quali possiamo dire, non abbiamo scoperto niente che è il concetto della società, non dell'economia solamente, ma della società capitalista di mercato ad alta finanziarizzazione, grazie a una potenza tecnologica che sembra senza limiti, che bisogna lottare contro questa, l'agenda di questo sistema, di questa società capitalista di mercato globalizzata ad alta intensità tecnologica e finanziaria. Allora, per il momento siamo alla fine di una fase di aver fatto un documento, di aver costituito un comitato di promotori per un'altra agenda, di una dozzina di persone che vanno dall'America Latina, cito solo Leonardo Boff, che è stato uno dei principali fondatori della teologia di liberazione, poi Buaventura di Susa Don Santos, un portoghese, un sociologo molto noto e rispettato nel mondo, da noi Roberto Mancini, dall'Università di Macerata, che è uno fra i, diciamo a mio parere, i pensatori più ricchi e più affonditi degli ultimi tempi anche nel nostro paese e via dicendo. Allora vorremmo iniziare con questo comitato a redigere una specie di rapporto ai cittadini, perché in fondo la lotta oggi di indignazione fondamentalmente è quella del mondo del lavoro, fondamentalmente è quella dei contadini, degli operai, degli impiegati, sì però è anche quella fondamentalmente degli abitanti della terra che non sono più cittadini, che non sono più considerati come dei soggetti che abitano la terra, che hanno dei diritti di abitare alla terra, che hanno dei diritti di stare nella terra, non hanno diritto alla salute, non hanno diritto al posto di lavoro, non hanno diritto all'acqua, non hanno diritto alla parola, non hanno diritto all'alloggio. Oramai noi anche abbiamo accettato, molti esponenti della sinistra a livello mondiale hanno accettato la sostituzione del concetto di diritto universale alla vita con il concetto di accesso universale all'acqua, alla salute, all'alloggio a prezzo abbordabile, cioè dire che i fondamenti epilastri, le correnti di fondo dei dominanti sono stati un pochino metabolizzati da noi stessi, e che abbiamo ormai accettato che qualunque cosa debba almeno a prezzo portabile essere pagato se si vuole avere accesso a quei beni e quei servizi considerati essenziali per la vita. Ecco, ora noi siamo in questa fase di vedere come fare quest'opera di sensibilizzazione, perché la mobilitazione politica sovente significa lottare per delle idee chiare, semplici, che non sono effettivamente rispettate, e di lì la potenza dei dominanti che riescono a non rispettare queste cose chiare e fondamentali perché in fondo hanno anche un sostegno un pochino tra che vado allo zero al cento, sostegno dell'opinione pubblica. E quindi lì il ruolo di sensibilizzazione è importante. Ho finito, era per questo di dire che ora con questo comitato speriamo di fare questo rapporto ai cittadini e a partire da lì identificare le pistazioni. Grazie. Grazie, grazie davvero Riccardo Petrella. Ricordo che nel comitato costituente dell'altra agenda ci sono Marga Ferré e Conil Debrant della Fondazione Transforma Europa che prenderà la parola subito dopo di noi. Grazie per la visione! Grazie.